1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5 5, 6 8 9 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti